Ehi, giovane! Hai tra i 19 e i 30 anni, bella storia! Hai un diploma o una laurea? Molto bene! Con lo studio ci stai dentro, ma vuoi finalmente entrare nel mondo del lavoro? Grande! C'ho una bella opportunità per te! Ti spiego, quando fai una passeggiata, guardati intorno. Cosa vedi? Case, strade, ferrovie? Esatto! Cosa non vedi? Tubazioni, impianti, cablaggi? Esatto! Tutte queste cose si chiamano ambiente costruito e l'ambiente costruito è in continua evoluzione, a seconda delle nostre esigenze. Prova a pensare, una volta per fare ad esempio una casa, servivano tre cristiani, quattro materiali e tanta fatica. Oggi la tecnologia, la digitalizzazione, l'attenzione alla sostenibilità hanno reso i processi di costruzione, manutenzione e ristrutturazione molto diversi. Cioè, tuo nonno nel 52, bravissima persona, ma non aveva le stampanti 3D, il laser scanner, la realtà aumentata. Adesso abbiamo tantissimi strumenti e materiali innovativi, ma per lavorare servono più competenze e soprattutto le figure specifiche. E allora, datti un futuro, diventa coordinatore dell'ambiente costruito. Un corso biennale che ti darà tutte le nozioni tecniche, pratiche e contabili per ricoprire questo ruolo che sta diventando fondamentale per moltissime imprese. Sarai l'organizzatore di tutti i processi, l'elemento chiave di un progetto. Il corso lo farai in buona parte all'interno di un'azienda che sta proprio cercando una figura così... Ti dico solo che nella scorsa edizione il 100% degli iscritti, bam, assunti, ma ci sono solo 25 posti. Quindi iscriviti subito sul sito eseb.it. Tra l'altro, ragazze, sapete cosa pensavo? Questo è il mestiere per voi. Tutto è precisetto, con quella leggerissima attitudine al comando. Tra l'altro, ragazze, sapete cosa pensavo?